Anche oggi è una bellissima regata, c'erano alla partenza 6-7 nodi, ma poi è cresciuto subito, quindi la barca ha reagito immediatamente, siamo usciti dal resto della squadra, è un'ottima partenza e sono riusciti poi a controllare la regata come volevamo. Non abbiamo sbagliato niente, abbiamo guadagnato costantemente sulla flotta, tenendo poi terzi assoluti dietro i due 56 e 52 piedi, quindi siamo contenti della velocità della barca, ovviamente sempre il rating favorevole nell'Orc che ci penalizza dal punto di vista della classifica, ma sinceramente oggi abbiamo fatto una regata meravigliosa, ha funzionato tutto bene, abbiamo indovinato sotto il bordeggio e alla fine il risultato per noi è buono dal punto di vista della nostra regata.